Ciao, sono Gianluca, sono un appassionato di musica elettronica. Ho frequentato presso Fonderie Sonore il corso di Electronic Music Production. Mi sono trovato molto bene perché ho potuto sviluppare tanti argomenti che avrei voluto approfondire e di cui non avevo la possibilità di farlo appunto da solo. Ho potuto spaziare soprattutto su una larga offerta formativa che ha permesso di anche irrobustire i miei fondamenti e tutte le mie conoscenze appunto base e non solo, poter andare anche un po' più sullo specifico. Grazie a innanzitutto un corpo docente sempre qualificato e motivante, anche grazie alla dotazione per esempio delle postazioni che Fonderie Sonore mette a disposizione degli studenti che permettono anche di avere un approccio concreto a quello che si apprende perché noi siamo anche in grado di replicare quasi in tempo reale quello che viene spiegato. Devo dire che le mie aspettative sono state tutte soddisfatte, non solo. C'è ovviamente anche il valore aggiunto del fatto che venire a contatto con dei docenti che sono così qualificati e che lavorano operativamente, questo mi ha permesso anche di avere delle motivazioni in più e anche appunto di dare un valore aggiunto maggiore a quello che facevo normalmente. Fonderie Sonore è stata una scuola che ci ha sempre fatto sentire molto protetti, seguiti in una maniera sempre puntuale e precisa. Corso consigliatissimo!